Salve a tutti, oggi parliamo di un argomento molto importante in mammografia, la documentazione del muscolo pettorale nella proiezione craniocaudale, CC. Non è un criterio di correttezza semplice da soddisfare perché dipende da molti fattori. La prima variabile è il posizionamento corretto, contano molto anche l'anatomia e la consistenza della mammella, l'anatomia del torace della paziente, la sua collaborazione e la presenza di eventuali patologie articolari, oltre al mammografo che si ha a disposizione. Riguardiamo velocemente un po' di anatomia radiografica, questa è una CC di ottimo livello in cui sono documentati. Il tessuto posteriore o profondo esterno, il tessuto profondo centrale con il muscolo pettorale a forma di lunetta, il tessuto profondo interno, quindi sia il prolungamento ascellare che il solco intermammario, capezzolo in profilo e una buona distensione, quindi tutto lo spazio retromammario nella sua completezza. Come spesso ho sottolineato, produrre una mammografia di qualità richiede molta competenza pratica e teorica e si tratta di un approccio di tipo problem solving. Se non si riesce mai o quasi mai a documentare il muscolo pettorale nella CC, dobbiamo chiederci quale sia, o meglio, quali siano i motivi. Cosa occorre sapere per documentare il muscolo pettorale? E stiamo parlando di una paziente standard. Cioè, quali sono le domande da porsi? La prima è questa. I tessuti profondi superiori sono stati portati sul detettore? E quelli inferiori? L'altezza del detettore è quella giusta? La posizione del torace della paziente rispetto al detettore è quella giusta? Nel caso ci sia un quadrante dominante fra l'interno e l'esterno, questo è stato documentato tutto? E la posizione della spalla ipsilaterale? E delle spalle tra loro? Oggi ci concentreremo su questi primi tre aspetti. Immagini 1 e 2 a confronto. È facilmente visibile che manchino i piani profondi e quindi il muscolo pettorale. Ma con una grande differenza. Nella seconda immagine il taglio, il cutoff, è perpendicolare al detettore. Mancano sia i tessuti inferiori che i superiori nella stessa quantità. Nella prima immagine il taglio è oblico, complicato dalla rotazione. Mancano di più i tessuti profondi nella direzione della rotazione, che può essere sia superinferiore che inferosuperiore. E lo si capisce che c'è stata una rotazione dal capezzolo non in profilo. Mi spiego meglio con questo disegno. Taglio perpendicolare nel disegno numero 2. Taglio oblico dovuto alla rotazione diretta superiormente nel disegno numero 1. Per cui si perdono più tessuti superiori e si ottiene la condizione del capezzolo non in profilo. Ma come si ottiene allora la condizione del capezzolo in profilo nelle mammelle standard? La si ottiene quando i quadranti superiori e inferiori sono paralleli tra loro e parallele al detettore. Quando non è in profilo, nelle mammelle standard, il capezzolo punta verso il tessuto mancante. Se il capezzolo è rivolto verso l'alto si ha la perdita dei tessuti superiori profondi, se verso il basso dei tessuti inferiori profondi. E se manca il tessuto profondo in qualsiasi direzione è difficile documentare il muscolo pettorale. Come correggere allora questo problema e ottenere nello stesso tempo la documentazione di una parte più estesa dei tessuti posteriori e quindi eventualmente anche del muscolo pettorale. Se il capezzolo è rivolto verso l'alto il problema è l'altezza del detettore, va abbassato e inoltre occorre distendere con decisione i tessuti superiori in avanti. Il capezzolo punta verso il basso? Il problema è nella presa della mammella, va sollevata bene. Consiglio di eseguire un movimento dal basso verso l'alto per raccoglierla tutta, recuperando così i tessuti inferiori mancanti, prima di portarla sul detettore. Per quanto riguarda le mammelle con quadranti superiori ed inferiori di diverse dimensioni, vi consiglio di guardare il capitolo 3 della serie degli artefatti, sempre su questo canale. Nella prima immagine un taglio perpendicolare, capezzolo e piatto ma in profilo. Manca però molto tessuto profondo. Confrontate con la seconda immagine stessa mammella fatta con un compressore più grande. Non solo nella prima manca il muscolo pettorale presente nella seconda, ma anche tutto lo spazio retromammario che vedete nella seconda, comprese tra l'altro le connessioni al torace interne ed esterne. Anche in questo esempio è molto chiaro. Quando mancano i tessuti profondi interni, centrali ed esterni, è un problema di presa della mammella e di posizionamento della stessa sul detettore. Occorre, ripeto, sollevarla molto bene con questo movimento dal basso verso l'alto che vi dicevo. Inserite quindi il vostro quinto dito nel solco inframammario e portate la mammella in avanti fino a che il quinto dito si trovi sul detettore. Quindi distendete con decisioni i tessuti superiori in avanti prima di comprimere. Riassumendo, primo step, sollevate la mammella dal basso verso l'alto, da sotto il solco in su. Secondo, inserite il vostro quinto dito nel solco promammario. Terzo, portate in avanti la mammella fino ad avere il vostro quinto dito sul detettore. Quarto, controllate che i quadranti superiori ed inferiori siano in parallelo tra loro e al detettore. Poi distendete. La distensione è fondamentale, deve essere decisa dal torace al capezzolo. In certi casi di mammelle consistenti, cioè difficili da manipolare, è l'unico modo per ottenere il capezzolo in profilo. Quindi la compressione, che deve essere adeguata per anatomia e consistenza. Su questo argomento trovate due video sempre su questo canale. Il nostro compito come tecnici senologi è di documentare quanto più tessuto sia possibile. Non è importante solo il muscolo pettorale, che è la parte profonda centrale. Sono importanti anche i tessuti profondi laterali e mediali. Nelle due immagini che vedete stessa mammella, tecnica diversa di posizionamento, ma possiamo fare un confronto fra le due. Nella prima capezzolo non perfettamente in profilo, ma accettabile. Nella seconda in profilo. Ampiezza in senso antroposteriore centrale, molto più importante nella seconda immagine rispetto alla prima. presente anche molto più tessuto profondo interno, nella seconda rispetto alla prima, sempre. E se osservate questo kinkin vascolare, notate maggiore estensione posteriore anche di tessuto profondo esterno, sempre nella seconda immagine rispetto alla prima. Dobbiamo cercare di documentare lo spazio retro mammario nella sua estensione completa. Mi fermerei qui per questa prima veloce lezione su questo argomento, spero vi sarà utile. La prossima volta valuteremo questi altri aspetti. Va comunque sottolineato che soddisfare i criteri di qualità della proiezione CC è veramente molto difficile, più difficile che per la proiezione medio laterale obliqua. Vi ringrazio dell'attenzione e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!